Sono Giuseppe Scaramuzzi, marketing manager di MW Line Group. MW Line Group è un gruppo di quattro aziende, ci occupiamo di sistemi per la protezione solare da esterni e anche da interni con alcuni prodotti e protezione contro gli insetti. I nostri stabilimenti sono in Puglia e in Basilicata, abbiamo anche una sede in Spagna e qui in occasione della fiera e di Social Expo abbiamo portato qualche prodotto, in particolare dalla nostra azienda MW Living abbiamo portato una pergola bioclimatica, la Ischia, che è corredata anche da un sistema filtrante, oscurante a caduta verticale che si chiama EvoZip e che è integrato nella pergola. In più c'è anche un sistema di protezione fatto con le nostre vetrate che consente quindi l'utilizzo della pergola anche oltre la stagione primavenile o estiva. Abbiamo portato una serie di prodotti per quanto riguarda il nostro catalogo zanzariere tra cui Boramini, Boratop, sistemi molto evoluti di protezione dagli insetti e in più c'è anche un bel panorama di prodotti come le tapparelle speciali, sono speciali perché hanno delle funzioni che consentono di arieggiare e illuminare la casa andando oltre il concetto più tradizionale diciamo di tapparella perché permettono delle funzioni in più che sono gestibili tra l'altro anche con telecomando. C'è anche il prodotto solare che è sempre un sistema di controllo solare dotato anche di un meccanismo anti-effrazione. Chiaramente tutto questo rappresenta solo una parte della nostra produzione che è piuttosto vasta e che comprende tantissimi altri prodotti il cui comune denominatore è certamente il discorso della protezione per gli ambienti domestici sia da interni e esterni.